Insomma, non dico si va da letto, è andato a fare after, a chiamare, a fare che cazzo di fare, però qui tocca chiudere. Non mi sto a dire la solita cosa che io considererei bla 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 bla, perché lo sapete, però insomma, come Nardi sarà per gli orari. Non vi ringraziamo tutti, è stata una bella estate! Ci vediamo il 5 settembre a Toco, io il 20 settembre con 29 anni, per cui il nome è venuto alla festa. 20 settembre 1957, Vergine Ascendente Leone. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!